Ripartono gli sbarchi nel porto delle Grazie di Roccella Ionica dopo il tragico naufragio di giugno, avvenuto a largo a 120 miglia circa, dove furono recuperati 40 cadaveri e altre 20 persone ancora risultano disperse in mare. Ieri pomeriggio sono giunti a destinazione, a bordo della motovedetta classe 300 della Guardia Costiera di Roccella Ionica, 75 migranti in prevalenza di nazionalità irachena e iraniana, tre profughi pure, una decina di donne e 12 minori. Prima di essere soccorsi e trasferiti su una delle motovedette della Guardia Costiera di Roccella Ionica e condotti in sicurezza fin dentro la struttura portuale della Locride, i migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela localizzata a largo di Roccella Ionica, a circa 80 miglia di distanza dalla riva. La barca a vela, con a bordo i profughi, stando a quanto emerso dalle prime verifiche fatte dalle forze dell'ordine dopo lo sbarco a Roccella, sarebbe partita dalle coste della Turchia nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti alle necessarie visite mediche e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio, sono stati momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale, dove, lo ricordiamo, viene fatta la prima assistenza gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Con lo sbarco di ieri è salito a 10 il numero degli arrivi negli ultimi due mesi nel porto delle Grazie di Roccella, per un totale di circa 600 migranti sbarcati. Ma ieri non è finita qui. 91 persone sono state sbarcate poco dopo le 19 al porto di Crotone, dopo essere state soccorse a 100 miglia sempre dalle coste, da una moto vedetta della Guardia Costiera. La loro nave, una barca a vela di circa 20 metri, con la quale erano partite dalla Turchia cinque giorni fa, si trovava alla deriva, con un mare agitato, quando è intervenuta la CP321 in forza alla Capitaneria di Porto di Crotone. Le persone, tra cui 12 bambini sotto i 14 anni e 18 donne, sono state trasferite a bordo dell'imbarcazione della Guardia Costiera. Allora arrivo a Crotone, una donna in stato di gravidanza ed un ragazzo con un problema ad un piede, sono stati trasferiti con le ambulanze del suo M118 all'ospedale di Crotone. L'ufficio immigrazione della Costura di Crotone, a conclusione delle operazioni di sbarco, che sono state sempre, ricordiamo anche qui, coordinate alla Prefettura, hanno contato 73 persone provenienti da Iran, tra cui 17 donne, 10 bambini, 12 uomini, una famiglia afghana di 4 persone e 2 egiziani. Le condizioni di salute sono state verificate nel porto dai medici in servizio dell'aspe di Crotone per gestire le emergenze come gli sbarchi. I migranti ora sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.